bella raga benvenuti nel nostro nuovo canale dove tratteremo solamente fitness palestra nutrizione e consigli sull'allenamento insomma cercheremo ora di farvi un bel video motivazionale faremo un allenamento spalle dove spaccheremo i pesi per voi spaccheremo il culo per voi per farvi vedere comunque come fare gli esercizi e niente vabbè rega molesta andiamo in palestra adesso partiamo con il riscaldamento conduzioni col bastone per iniziare abbiamo i tre esercizi fondamentali per le spalle tra cui il lento in avanti con manubri 4 per 8 alzate frontali sempre 4 per 8 e alzate laterali 4 per 8 iniziamo attenzione attenzione Grazie a tutti. 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 Vi darò vedere come si fa. Vi darò vedere come si fa. Vi darò vedere come si fa. Ricordate sempre di tenere i gomiti alti che è una delle cose più importanti per questo esercizio. Non così, eh? Non così. Così. Allora, qui la presa è stretta, qua della presa, il movimento pulito e lo portate al mento. Da qua vi fermate un secondo, vedete la contrazione e scendete. 12 colpi. 12 ripetizioni. Allora, ora abbiamo le scollate, 3x12, sempre per i trapezzi. questa è la contrazione. tenete sempre la contrazione, 3 secondi di contrazione. allenamento finito. Allora, benvenuto finito. Abbiamo concluso questo allenamento delle spalle, spero vi sia piaciuto. iscrizione al canale, passatevi i social, Instagram, tutto quanto. E niente. Bella, regà. Come, come, come.